Signore Sindaco, Signor Commissario Europeo, Signore e Signori Ministri, ma anche Vice-Ministri, Sottosegretari, Signor Presidente della Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome, Signori Presidenti e Assessori delle Regioni, gentili ospiti. Ritrovarsi qui oggi a dialogare sul miglioramento dell'aria è di per sé un bel segnale. Con il Clean Air Dialogue il Governo italiano intende infatti dare convinto impulso a un percorso virtuoso in cui istituzioni e società decidano misure e azioni e diano attuazione alle stesse per un obiettivo comune che unisce e lega il presente al futuro. Come ho avuto modo anche di osservare in varie altre sedi è emblematico che siano i giovanissimi portatori di questa sensibilità che ci ricordino la responsabilità che abbiamo quanto alla tutela dell'ambiente, che deve essere globale. Per essere davvero tale infatti deve trovare concreta testimonianza nell'impegno di ciascuno di noi. Occorre un approccio inclusivo da parte delle istituzioni perché gli obiettivi che ci riproponiamo di perseguire in materia ambientale, in questo caso il miglioramento della qualità dell'aria, non rimangano stagio di procedure o anche di decisioni prive di sufficiente trasparenza e lontane dei cittadini. La lotta all'inquinamento dell'aria è, direi per definizione, un esempio dell'esigenza morale ad un tempo e politica che un bene venga tutelato nel rispetto e con l'impegno di tutti. L'Italia, ma devo dire anche con altri Stati membri dell'Unione Europea, non è ancora pienamente in linea con le direttive europee sulla qualità dell'aria. Dobbiamo impegnarci ancora di più, ma proprio per questo abbiamo definito un percorso concreto che ci porterà al completo allineamento con le norme europee in materia di tutela dell'ambiente. Abbiamo trovato e contiamo di continuare a trovare ascolto e collaborazione con le istituzioni europee e io confido che il Commissario Vella, che ringrazio per la sua presenza qui oggi, abbia potuto constatare direttamente e personalmente in questi mesi il nostro concreto e fattivo impegno e anche la sua realtà con cui stiamo affrontando questo problema. Oggi sicuramente questo incontro è un passaggio non solo simbolico verso questo percorso, è solo con uno sforzo collettivo e coordinato, basato sul dialogo, che su scala nazionale ed europea si può cambiare approccio e invertire in modo efficace e duraturo e sostenibile la tendenza in materia di inquinamento atmosferico. Ho per questo aderito con piacere, pur in una giornata impegnativa, all'invito del Ministro Costa a testimoniare questa convinzione di persona in un evento che lo ringrazio per aver voluto ideare e voluto realizzare. E se mi permettete sono anche lieto che questo obiettivo di cambiamento venga assunto in questo luogo, in questa città, Torino, che come tanti altri nella pianura padana soffre anche per condizioni meteorologiche diciamo non del tutto favorevoli dell'inquinamento di questo bene che appartiene e a tutti e sono certo che anche in questo percorso di tutela dell'ambiente Torino saprà distinguersi come si è sempre saputa distinguere nella nostra storia nella storia della civiltà italiana ed europea. Il Clean Air Dialogue che inauguriamo oggi è il primo esercizio di questo genere in Italia, forse anche Ministro in Europa e direi per ampiezza, soprattutto quanto all'ampiezza degli attori coinvolti, per il preciso intento di mettere al centro i cittadini, per la stretta collaborazione con le istituzioni della Commissione europea, per l'approccio collaborativo tra diversi settori che a livello nazionale contribuiscono all'inquinamento dell'aria, settori come energia, trasporti, agricoltura, attività produttive e anche coinvolgendo vari livelli amministrativi, Stato, regioni e enti locali. Dialoghiamo quindi con tutti per trovare soluzioni perché è un problema che colpisce tutti e che riguarda un aspetto essenziale della nostra vita. Dialoghiamo con le istituzioni, quindi cittadini e istituzioni, dialoghiamo con esperti, con le amministrazioni, dialoghiamo insieme alle associazioni che giustamente si battono e fanno di un obiettivo statutario la qualità migliore dell'aria, il raggiungimento di una qualità migliore dell'aria. Dialoghiamo con l'Unione europea che si è data con il nostro concorso, se mi permettete, regole e standard rigorosi in questo ambito, proprio per meglio tutelare ambiente e salute. Superare il disallineamento rispetto agli standard e alle procedure deve essere un obiettivo non estemporaneo. Dobbiamo infatti assicurare a noi stessi e alle generazioni future un Paese, un continente pulito, un ambiente sano, acque, terre e aree libere da inquinamento e da contaminazioni. Ho voluto incontrare qualche settimana or sono alcuni giovani con il Ministro Costa, li abbiamo incontrati a Palazzo Chigi, che invocano azioni immediate e un approccio globale al problema della nostra grande Casa Comune. Abbiamo in qualche modo progettato una modalità quasi di coinvolgimento, direi, nelle nostre iniziative di governo. Mi sembra un'iniziativa molto bella, ma testimonia concretamente, al di là dell'aspetto simbolico, la volontà di potersi aprire finalmente in piena trasparenza al dialogo con tutti, rendendo conto anche dei nostri comportamenti a tutti. È essenziale che chi governa ascolti e tenga conto dei contributi costruttivi offerti dalle giovani generazioni, oltre che inclusive rispetto alla società, le decisioni e le azioni in materia di tutela ambientale devono essere integrate. Il territorio italiano è un esempio a livello globale di come aria, clima, natura, acqua, biodiversità, difesa dei suoli siano tutti collegati. Non ha senso ragionare per compartimenti stagni. Una polisi in questa direzione sarebbe una polisi assolutamente inefficace. Non esiste, vi ricordate il vecchio detto, l'erba del vicino è sempre più verde, l'aria del vicino è sempre più pulita. No, qui l'aria che respiriamo è di tutti, non ha confini e tutti siamo coinvolti e ugualmente responsabili nella tutela di questo bene prezioso. L'impegno assunto dal governo che presiedo ad una decisa azione a tutela della qualità dell'aria e in generale dell'ambiente, del territorio e del mare, ha un respiro ovviamente anche europeo, globale. L'Italia, se mi permettete, oggi è all'avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici, sia come membro fondatore dell'Unione Europea sia per capacità nazionale. Abbiamo già superato i livelli di riduzione delle emissioni dell'Unione Europea previsti entro il 2020, pensate. Stiamo procedendo fiduciosi verso il superamento degli obiettivi dell'Unione Europea del 2030. Contiamo di avanzare con determinazione verso l'obiettivo della neutralità cosiddetta carbonica. Abbiamo superato anche gli obiettivi dell'Unione Europea in materia di energie rinnovabili nel mix energetico nazionale fissato per il 2020. Diciamo che abbiamo un'efficienza energetica di primo ordine, di cui siamo molto orgogliosi, che è di gran lunga migliore se guardiamo un po' le statistiche dei paesi dell'Ox e dell'Unione Europea ed è valutata addirittura tra le prime al mondo dalle più accreditate, autorevoli, classifiche internazionali. Siamo parte attiva della cosiddetta coalizione di alta ambizione nel quadro della Convenzione sul cambiamento climatico che si propone mete sempre più avanzate per le riduzioni del gas effetto serra e di soluzioni preferenziali per la loro attuazione. Abbiamo tempestivamente presentato all'Unione Europea il piano nazionale integrato per l'energia e il clima ed elimineremo gradualmente la produzione di energia a carbone entro il 2025, un obiettivo molto ambizioso che confidiamo di raggiungere. Sosteniamo poi in ogni sede l'accordo e l'attuazione dell'accordo di Parigi, lo intendiamo come un accordo, una base che offre notevoli opportunità, un potenziale motore per la crescita economica, per nuovi posti di lavoro, per lo sviluppo tecnologico che potrà garantire al contempo una transizione giusta e socialmente equilibrata. Insomma, siamo impegnati su tanti fronti, abbiamo anche presentato la nostra candidatura ad ospitare la conferenza delle parti della Convenzione sul cambiamento climatico nel 2020. Riteniamo di poter essere protagonisti su tutti questi fronti, di poter proporre anche le nostre idee e di poterle condividere. A settembre io personalmente sarò al Summit sul clima, convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite e stiamo lavorando per spingere i nostri partner industriali ad essere ancora più ambiziosi in queste direzioni. Nello stesso tempo sollecitiamo i paesi in via di sviluppo sul percorso della giusta transizione. Devo ringraziare il Ministro Costa perché si è non solo dimostrato molto competente ma si sta dimostrando anche molto peroso. Grazie a lui l'Italia ha sottoscritto 40 parteneriati strategici, soprattutto con i paesi più vulnerabili come i paesi africani e le piccole isole finanziando una miriade di progetti su energie rinnovabili, resilienza, mobilità sostenibile e rafforzamento delle capacità. Grazie Ministro. Il percorso che Convenzione inizia con l'odierno Green Air Dialogue è molto ambizioso, mira ad avvicinare istituzioni e cittadini e a collegare la dimensione locale e nazionale con quella europea, con quella globale. A concreta testimonianza di questo impegno firmeremo tra poco oggi, insieme a Ministra e Sottosegretaria, Presidente della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, un protocollo che istituisce un piano di azione di misure nazionali nei tre settori maggiormente responsabili dell'inquinamento, trasporti, agricoltura e riscaldamento domestico a biomassa. Sarà prezioso, indispensabile direi, il ruolo che questo percorso potranno avere i vari stakeholders, le varie espressioni della società italiana. Parlo della comunità, degli esponenti della comunità scientifica, della comunità accademica, parlo delle associazioni impegnate della tutela dell'ambiente, parlo anche degli esponenti, degli operatori del settore privato. Tutte queste componenti del nostro settore, che hanno un livello incredibile di eccellenza, dovranno essere con noi, condividere questo sforzo collettivo per un'area migliore che rispetti le regole europee e che rispetti anche, al di là delle regole europee, un principio fondamentale, il principio di responsabilità verso i cittadini che sono qui oggi e vivono su questo pianeta, ma verso anche le generazioni che verranno. Pensate, nel mio discorso di insediamento, quando questo governo e io personalmente ho chiesto la fiducia al Parlamento, ho invocato una politica che alzasse lo sguardo, che si sforzasse di perseguire i bisogni reali dei cittadini in una prospettiva non di corto respiro, ma guardando oltre l'orizzonte di medio e lungo periodo. Testualmente ho detto che la politica perde di vista il principio di responsabilità se agisce in modo diverso, perché questo principio di responsabilità impone di agire, e lo raccomandava un filosofo a me caro, Hans Jonas, non solo guardando al bisogno immediato che rischia di tramutarsi in mero tornaconto, ma anche progettando la società che vogliamo lasciare ai nostri figli, ai nostri ipoti. Dobbiamo quindi continuare e concludo ad applicare con determinazione questo principio alla tutela dell'ambiente, dimostrando all'Europa, al mondo, che l'Italia riparte, l'Italia in prima fila nel rispetto di queste regole, nel rispetto di queste sensibilità, nel perseguire e applicare il principio responsabilità. Solo così riusciremo a svolgere il ruolo che meritiamo di svolgere in Europa e nel mondo, riavvicinando la politica ai cittadini, restituendo loro fiducia al posto della paura e rendendoli pienamente partecipi di un destino comune che sarà migliore, se sarà migliore anche la qualità dell'area italiana, dell'Europa, del pianeta. Grazie. Sappiamo che il Presidente del Consiglio deve scappare per un impegno internazionale, quindi io stravolgerei il programma e andrei subito alla firma del protocollo, per cui chiedo allo stesso Presidente Conte di inaugurare la firma del protocollo, lì alla sua sinistra, e poi chiamo tutti i rappresentanti dei Ministeri. Prego. Per il Ministero dello Sviluppo Economico, il Sottosegretario Crippa. Per il Ministero delle Politiche Agricole, il Sottosegretario Pesce. Per il Ministero dell'Economia e della Finanza, il Vice Ministro Castelli. Grazie. Per il Ministero dell'Ambiente, il Ministro Costa. Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Bonaccini. Bene, io direi di fare un applauso, di invitare il Presidente Conte a unirsi ai Ministri. Grazie. Grazie.